Un anno fa mi permisi di scrivere, tra virgolette, Grazie professore, nell'album delle firme per le esecue dell'architetto Adolfo Natalini, anche per sottolineare le reciproche identità lui docente ed io discente in quegli anni in cui lo incontrai alla Facoltà di Architettura di Firenze. Il feretro fu esposto nella Cappella di San Luca, detta anche Cappella dei Pittori, presso il Chiostro Grande della Basilica della Santissima Annunziata a Firenze. Era la fine di gennaio 2020 e in quell'occasione partecipai al mio ultimo assembramento prima del lockdown. Ad un anno dalla sua scomparsa intendo ricordare, e probabilmente ho il dovere di farlo ancorché lo abbia conosciuto superficialmente, questo architetto pistogliese adottato fiorentino, che ha avuto un grande ruolo per un'intera generazione di studenti, che hanno frequentato la Facoltà di Architettura negli anni immediatamente successivi al Movimento Radicale, grande evento culturale di cui Natalini è stato tra i fondatori. Intendo la mia generazione, ovvero quel gruppo di personaggi che furono matricole a Firenze alla fine degli anni 70 e che in Natalini riconobbero l'unico docente che possedeva un calibro internazionale. era stato lui il personaggio chiave della nascita di quel movimento che, tra gli anni 60 e 70, attraverso le immagini cosmiche e apocalittiche di Superstudio, gruppo di avanguardia di cui era leader, aveva determinato una grande scena visionaria che a Firenze, da Firenze, si era proiettata in tutto il mondo. Evito di proiettarmi nella facilissima e tristissima favola del professore che, avendo percepito il fascino indiscreto della modernità e per averla poi successivamente disconosciuta, ricevendo le accuse da ognuno di noi, se ne è andato un attimo prima che si concretizzasse il Covid-19, ovvero una delle più sonore sconfitte della stessa modernità. Rimane il fatto che se chiedete oggi a qualsiasi architetto che si sia interessato abbia vissuto la fase storica tra gli anni 60 e 70 quale sia stata la posizione assunta successivamente da Natalini, vi sentirete rispondere che gli ha rinnegato quella fase, allontanandosi dalla ricerca avanguardistica per rifugiarsi viceversa in una visione classicista. E questa è stata esattamente la considerazione che ha accompagnato, e direi travolto, la figura di questo architetto dai miei primi anni universitari fino alle sue ultimissime realizzazioni. Ma come spesso accade, il post mortem determina una riflessione più profonda, analitica e misurata, come se la scomparsa fisica del personaggio determina una più razionale capacità di focalizzarlo e comprenderlo. Nella prima metà degli anni 70, in cui non avevamo neppure vent'anni e stavamo indirizzandoci verso gli studi di architettura, le immagini di superstudio, in primis quella intitolata New New York, dove il monumento continuo attraverso Manhattan, erano da noi osservate non solo e semplicemente nelle riviste di architettura, che stavamo cominciando a comprare, incuriosendoci assai, ma le trovammo insediate anche su testi e raccolte del gota culturale italiano. Tra queste, un esempio calzante, mi limito a citare il volume 12 dell'Encirlopedia in Audi, che, nello scatolare sovracoperta, oltre le due parole che delimitano il tratto del dizionario alfabetico cui fa riferimento quel volume, nello specifico i termini che vanno da ricerca a specializzazione, riporta proprio l'immagine di New New York. Aggiungo, e chissà se è il gioco del caso, che quei due termini ricerca a specializzazione insieme a quell'immagine ancora oggi sembrano fatti apposta per stare insieme. Insomma, in una maniera o in un'altra, molti di noi matricoli di quegli anni, seppur disorientati dai labirinti universitari e comunque non redotti sui dibattiti in corso, iniziamo a brucare nei pascoli dell'architettura una serie di immagini, e New New York era tra queste, che risultavano già diffuse nei media. E in questo quadro mi piace annotare come il movimento radicale sia stata un'avanguardia, e sto convincendomi che sia stata non solo l'ultima avanguardia propriamente detta del XX secolo, ma anche della storia tutta, dalla straordinaria capacità di sintonizzarsi con la storia all'istante, ovvero di storicizzarsi appena partorita, compattata attraverso le sue stesse immagini seducenti che parlavano da sole. Più che un movimento culturale, uno smuoto della cultura, che recependo il germe del tempo reale, lo usò per passare dall'enfasi delle istanze giovanili direttamente ai libri di storia. E proprio alla fine degli anni 70 risalgono i primissimi segnali in cui noi studenti recepimmo, precisamente tra il 79 e l'82, sulle pagine di Domus e Casabella, una sorta di trasfigurazione del leader di Superstudio. Ricordo benissimo che rimanemmo non poco meravigliati da quella sobrietà stilistica che pareva tradire il gene originario delle visioni megastrutturali di stampo Radicals, che emergeva in due realizzazioni di Natalini con Superstudio. In realtà si trattava di due veri e propri capolavori dell'architettura italiana, in cui armoniose e complesse planivolumetrie si sposano con per il proprio festival che arriva di dettagli architettonici. Dirò di più. Il disegno dei raccordi trave-pilastro, potremmo dire il DNA di ogni telaio del costruito, che Natalini e Superstudio realizzarono, nel primo caso, attraverso l'innesto tra l'atterizio e il cemento armato, nel centro contabile a zona Pedrosa, presso Bologna, e nel secondo caso, con soluzioni geometriche variegate di travertino bicromo, nella sede bancaria ad alzata ebrianza presso Como, evocano dei passaggi di scala che sembrano ribadire, da parte del gruppo, che aveva promosso nel 1966 la superarchitettura, quella medesima, asciuttissima e sofisticata eleganza che Mies fece seguire all'impresa eroica del movimento moderno. Paragone improprio ed azzardato? Può darsi, ma quelle due opere se lo meritano. Comunque. In realtà, intendo ribadire che la mia generazione non prese del tutto un abbaglio, perché è innegabile ciò che scaturisce dal raffronto tra quelle realizzazioni e le visioni dell'esordio radicale di Natalini Superstudio. Si trattò dell'abdicazione verso un abaco di componenti architettonici appartenuti ad una trattatistica, ancorché rivisti in una logica sperimentale. Insomma, già in quei due progetti stava iniziando un processo che travaserà dal gruppo Superstudio allo studio Natalini Architetti. Così come evidentemente differenti sono i timbi degli scritti di Natalini se confrontiamo tra loro le fasi del suo esordio con quelle delle sue ultime realizzazioni. Parlano per tutti due esempi che invito a leggere. L'introduzione di Natalini al seminario Spazio di coinvolgimento condotto da Leonardo Savioli, di cui Natalini era assistente alla fine degli anni Sessanta, e le sue personali testimonianze sul libro intitolato Architetture di Resistenza, edito 50 anni dopo. Le dichiarazioni che seguono, e vado a commentare, sono tratte proprio da quest'ultimo testo e le introdurrò con la didascalia corsivo tra virgolette, seguito da un numero progressivo. Sono finché le parole di Natalini facessero emergere più chiaramente la visione della sua opera. Pertanto ciò che leggerò, proceduto da corsivo tra virgolette, non corrisponde alla lettura integrale del testo, bensì ad una mia revisione a franco di ciò che ho ritenuto superfluo. Corsivo tra virgolette 1. Il mio lavoro odierno è contenuto in gran parte nel mio primo lavoro, anche se è difficile rintracciarlo nei fotomontaggi di Superstudio. Quel lavoro era necessario negli anni 60 e quello che ho svolto recentemente in Olanda era necessario per l'inizio del nuovo secolo. Infatti, a mio avviso, l'impresa architettonica dei Natalini non va interpretata come rinnegare lo spirito della sperimentazione tanto caro all'avventura radicale, bensì di superarlo per andare oltre, attraverso una successiva personalissima tappa apnea. È una sorta di tentativo supremo di superarsi, puntando verso il limite ultimo possibile della materia architettonica. Il suo nucleo più intimo, il suo noccio più profondo, quello che gli inglesi definiscono core. Meglio ancora, egli ha indirizzato la sua personale ricerca mantenendosi sul medesimo rettilineo dei radicali, ma ne ha ribaltato il verso di marcia, ovvero ha tentato di dirigersi il più vicino possibile al nocciolo del costruire, nella convinzione che questo si trovi custodito nel passato dell'architettura, che conosciamo, e non in un futuro imprecisato ed aleatorio. Mi rendo conto che noccio dell'architettura è concetto astratto e sfumato. Si tratta comunque di evitare di identificare il suo viaggio come prassi, passatismo o futurismo, cioè nel senso marinettiano del termine, bensì di comprendere in Natalini una ricerca estrema e personalissima, che ha inteso superare qualsiasi forma stilistica per rintracciare la scintilla originale del costruire. Egli ha cioè sgombrato il campo, da qualsiasi avvitamento trend, minimalismo, high tech, decostruttivismo, neobarocco e via dicendo, bensì sposando in maniera semplice pura l'architettura, proponendola pertanto non come fattore alla moda, ma nel suo primissimo compito di modalità di conforto delle esigenze umane. Il suo è stato un istinto simile a quello dei bambini, che riportano sul quaderno da disegno l'idea maioetica della casa, ovvero il luogo in cui ricevere affetto, cura e risposte ai propri bisogni. Non c'è niente di più lontano dalla ricerca di forme nuove con cui affermarsi in un mercato. Le forme da lui usate non hanno alcuna presunzione, non intendono etichettarsi neoclassiche o quant'altro. Per certi aspetti si tratta di studi e forme giocose e ludiche, ma destinate a divenire eroiche, in quanto necessaria percorrere la memoria e avvicinarsi a quell'essenza magica e spirituale che noi tutti chiamiamo archetipo. L'interpretazione, esposta dalle labbra di tutti noi, di un Natalini ritornato al classico è da questo punto di vista del tutto superflua, se non fuoricampo, e riesce solo a dirottare il dibattito in considerazioni che non ti restano minimamente l'opera di questo architetto. Le ultime realizzazioni di Natalini rappresentano una sorta di trapasso estremo dell'architettura, finalizzato affinché questa non determini alcuna sprità, imbarazzo o interdizione a chi l'abiterà. Non dimentichiamo che Natalini, prima di essere architetto, fu pittore e pertanto artista allo stato puro. Viceversa, e da stare responsabilmente, nella sua opera di architetto lui si è sempre presentato come artista allo stato impuro. Ma chi è un artista allo stato impuro? È in questo caso un architetto che intende sottolineare le differenze tra chi opera pittura, scultura, fotografia, musica, performance eccetera, evidenziando che l'opera di un architetto non si limita ad essere percepita dall'uomo, ma l'uomo in essa vive modellando le proprie azioni e quindi se stesso. In tal senso, più di una volta ho personalmente sentito dichiarare da Natalini di essere stato un pittore che aveva deciso di divenire architetto, corsivo tra virgolette due. Io voglio iscrivermi ad architettura perché gli architetti erano i protagonisti dei film di Antonioni alla fine degli anni 50. Ed infatti alla fine degli anni 50 Natalini si iscrisse ad architettura ed il riferimento ai film di Michelangelo Antonioni puntava sicuramente a Gabriele Ferzetti che nell'avventura, un film del 1959, interpreta un architetto che ha abbandonato ogni ricerca formale e si è volutamente ridotto a fare calcoli strutturali. Se i film di Antonioni di quel periodo inquadrano la crisi esistenziale di una classe borghese che deve fare i conti con se stessa, mi piace pensare che il Natalini pittore mi resta divenire architetto per trasformare le sue ambizioni estetiche e formali in ambizioni politiche e sociali. Corsivo 3. I libri e le riviste mi mostrano un mondo in cui l'architettura produce solo diversità e novità, senza che vi sia nessuna necessità di queste. Si tratta solo di un'architettura attesa all'autoaffermazione, anche attraverso l'artificio della bruttezza. Il tentativo di Natalini negli ultimi 40 anni è stato quello di prostarsi a un senso del bello, che definirei civile in quanto diffusamente riconosciuto come tale, il che non significa di certo ordinario e infatti le sue architetture non sono mai edifici ordinari. Il bello che egli ha cercato doveva però essere ampiamente riconosciuto e come tale doveva essere portatore di declinazioni spaziali accettate con serenità, se non da tutti, dalla maggior parte degli individui. E la maggior parte degli individui, anche se questo dispiace spesso a molti di noi architetti, sono come bambini che concepiscono la casa attraverso le forme che potremmo definire ancestrali. Avrà ragione da vendere chi dirà che il disegno dell'architettura della città non può essere operato da chi evoca i disegni dei bambini, è vero, ma questa mia lettura non intende scendere in un dibattito urbanistico e sul disegno della città. Personalmente trova assai limitativo e in ogni caso assolutamente secondario, se non scadente, che i cultori dell'architettura, me compreso, abbiano oggi osservato gli edifici di Natalini come un ossequio alla classica ricomposizione di tessuti urbani ormai tramontati, senza riuscire a comprendere che il suo lavoro è stato un'eccezionale ricerca artistica ed architettonica, che ha tentato di rendere la materia innocua, senza effetti detonanti o colpi di scena, per delineare il progetto di uno spazio di conforto innocente, senza tentacoli. Corsivo tra virgolette 4. Il mio lavoro respira una normalità senza tempo e io vorrei scomparire dentro gli edifici che costruisco e vorrei inoltre che questi scomparissero nella città. Si tratta quindi di un lavoro in un certo qual modo magico ed alchemico, dove la leggerezza delle buone intenzioni gioca con la pesantezza del sapore lapidio, perché è proprio su questo contrasto che si è articolata nei secoli, se non nei millenni, la città storica europea e l'architettura della città storica che in essa convive. Gli ultimi lavori di Natalini affrontano proprio il disegno urbano della città storica ed il suo atteggiamento verso di questa è delicatissimo, assai simile ai movimenti con cui l'incantatore affronta il serpente, quasi ipnotizzandolo. La verità è che dalla fine degli anni 70 in avanti, ovvero dal momento che fu un matricole, Natalini è stato un interprete che sapeva benissimo che la sua battaglia sarebbe stata simile a quella di Teseo, così come a quella di Don Quixote. Era cioè convinto che l'architettura consolidata è l'unico filo di Arianna per uscire dal globalismo, ovvero per combattere quel profumo di uniformità standardizzata e diffusa che gira, evidenziata dal rifrullo dei bolini avvento di mode e stili, in cui i significati almeno primordiali dell'architettura non esistono più. Corsivo tra virgolette 5. La rinuncia alla sperimentazione, sempre presente negli architetti contemporanei, mi ha allontanato dal successo e dalla celebrità. Infatti, sostanzialmente, la sua ricerca progettuale è stata un affronto, sfida, antidoto a quell'uniformità generatrice selvaggia di serie alle griffe che, marcando a fuoco qualsiasi forma di desiderio merceologico, è tesa a rendere il nostro pensiero parte integrante del parco artificiale del mondo. E questa condizione, resa chiarissima dallo stesso Natalini Superstudio nell'esordio radicale. Il monumento continuo è l'obelisco dell'uniformità. Con le sue ultime opere non è stato affatto smentita. Facendo tesoro di quell'esperienza, in cui egli aveva percepito la genesi delle forme della globalizzazione, Natalini ha inteso insediare, con le sue architetture, dei personalissimi anticorpi alieni, evitandogli riferimento al variegato carnet contemporaneo. In realtà, con le sue ultime opere, egli ha valorizzato la propria esperienza negli anni sessanta, non per stigmatizzare uno stile proponendolo un altro, ma per manifestare evidenti prodomi di una condizione in cui non risulta più possibile riconoscere bello brutto, utile inutile, perenne e provvisorio. Si tratta proprio delle tre componenti, venustas, utilitas, firmitas, dell'architettura vitroviana, cioè nel suo pensiero il marchio d'origine dell'architettura. L'anticorpo da lui prescelto. Per questa condizione patologica del moderno è apparso a molti il ritorno ad un improbabile passato, ma in realtà per le sue opere egli ha osato e ricomposto con grande ambizione e creatività attributi formali certi, riconosciuti, accettati della secolarizzazione del coltruito. Li possiamo osservare nella torre natalinida realizzata presso Essen, in Olanda. Vedi lettera B dell'immagine che accompagna questa lettura, all'interno di un tessuto in cui convivono storia e modernità. La torre è tutta ritmata da tessere colorate che rompono con le algide facciate in vetro metallo del tessuto che la circonda. I ritetti piani degli edifici moderni sono come esorcizzati dal tetto alto e ciclopico della torre. È un doppio colo in acciaio che Natalini pone come un anomalo cappello cornuto da mago merlino sulla testa di quell'architettura. Ma questa lontana evocazione animalesca viene immediatamente repressa dalla presenza di una sorta di bietta incastrata tra quei due coni. È un parallelepipedo finestrato, anch'esso in acciaio e di proporzioni considerevoli, che rompe tra quelle cuspidi contro qualsiasi tradizione storica. Tutto questo è lontanissimi dei tetti a cono che abbiamo conosciuto nella storia passata e recente. Non è il tetto dei trulli di Alberobello in Puglia, così come non è il tetto che riveste il teatro del mondo che galleggia nella laguna di Venezia. A ciò si aggiunga un eccellente paradosso. Il campanile della vicina cattedrale di San Cristoforo, la cui salvaguardia percettiva doveva essere un presupposto del progetto, dichiarato dallo stesso Natalini, risulta viceversa avvilito, se non ripudiato, proprio dal doppio cono della sua torre. Torre che durante l'attraversamento del ponte sulla Mosa, uno dei più importanti fiumi fiamminghi, si interpone a chi vorrebbe osservare l'approssimarsi di quel campanile gotico ritmato in laterizio. Scompari inoltre, osservando da vicino la torre di Natalini, anche un eccellente componente della tradizione dell'architettura storica, ovvero l'attacco a terra dell'edificio. Infatti, senza lasciare alcuna traccia, le texture del fronte circolare, composta di finestrature e tessere mosaicate si adagiano, senza colpo ferire, sulla pavimentazione di un suolo appena graficizzato. Un edificio appendice alla grande torre si presenta da questa staccato e di dimensioni a quella decisamente sottoposte. Questo ricompone il fronte di una strada collaterale attraverso un corpo lineare, la cui genese della torre è ben riconoscibile attraverso l'identica tessitura dei fronti. Ma a differenza della torre, questo edificio appendice presenta almeno due palesi riferimenti alla città storica. Il primo è il prospetto frontale sul marciapiede, che lascia il posto ad uno spazio coperto a servizio dei pedoni. Il ripario è giocato con menso l'asbalzo al sperone diagonale, che dal piano terra traslato verso il retro si innalza dal sostegno dei pochi piani superiori, che invece si attestano fino al fronte strada. Tra piano terra indietreggiato rettilineo e fronte curvo della strada dei piani superiori, gli speroni diagonali creano una discontinuità che pare muoversi come un ventaglio. Il secondo riferimento è viceversa ubicato sul fronte laterale del detto edificio appendice, che sostanzia un torrino con copertura conica metallica che pare evocare, seppur decisamente più piccolo, i coni sul capo della torre. Ma anche in questo caso Natalini pare divertirsi a giocare con la storia. Infatti, detto torrino conico, metallico posto in appendice, si attesta sul grande incrocio autostradale in cui gli automobili viaggiano, o verso il grande ponte Sondamosa o verso le mura limitrofe alla cattedrale di San Cristoforo, immediatamente prossima. Col risultato che questo torrino secondario, insieme ad un edificio gemello che si staglia lungo i bastioni della cattedrale, sull'altro lato dell'arteria, sembrano evocare, se non funzionare, da improbabili altane di guardia alle centinaia di automobili che circolano lungo diverse corsie interposte tra i due coni. Corsivo, tra virgolette, 6. Dopo gli anni di avanguardia e superstudio, ho pensato di essere vaccinato a sufficienza contro la malattia della modernità. Insomma, Natalini ha voluto reinterpretare le proprie performance radicali come una palestra giovanile indirizzata al riparo dall'ebrezza del moderno, ovvero come una sorta di preallenamento con cui successivamente potersi svincolare dai tentacoli di uno stile che egli ha considerato sostanzialmente insufficiente. Ma non per mera insoddisfazione di carattere snob, ma in quanto appunto mero stile. Corsivo, tra virgolette, 7. Adesso sono in grado di ascoltare i canti ammalatori delle firene che capto ogni giorno nella bocca dei miei studenti e dei miei collaboratori, ma senza dovermi farmi legare all'albero della nave e senza mettermi lasciare le orecchie, come viceversa Ulisse ordinò ai suoi marinai. Detta esperienza preginica, condivisa con i diversi interpreti radicals, è l'investimento ideologico e culturale che Natalini ha inteso capitalizzare all'insegna di una sua personalissima traiettoria. Egli ha consegnato a quegli anni rivoluzionari un plus valore, constatando che, per continuare ad essere rivoluzionari, è necessario ed urgente interpretare e umanizzare ciò che lui stesso e i suoi adepti avevano preannunciato a un superstudio. Insomma, il villaggio globale. Corsivo, tra virgolette 8. Molte esperienze dell'avanguardia contemporanea hanno avuto origine dal lavoro di superstudio. Ren Kulas e Bernard Schumi sono stati i miei studenti a Londra nei primi anni 70, ma il mio lavoro è diventato oggi antiutopico perché l'utopia è stata omogeneizzata dalla globalizzazione. Oggi Ren Kulas, fondatore di Office Metropolitan Architecture, è uno dei maggiori interpreti del progetto globalizzato. Eppure, egli è sempre stato un grandissimo cultore di Natalini Superstudio. È evidente nei suoi primi lavori, vede la città del globo prigioniero, manifesto di Oman negli anni 70, così come in esposizioni più recenti, vede gli allestimenti della Biennale di Venezia da lui diretta nel 2014. Arrivo a dire che in realizzazioni, progetti scritti, egli non ha mai perso occasione per omaggiare a pieno titolo le dichiarazioni di Natalini Superstudio. La mia generazione, che fu matricola nel 1979, ha avuto come docenti un gran numero di architetti ex radicals. Natalini è stato semplicemente il più noto di questi. Poi, successivamente, siamo tutti rimasti esterefatti, se non ipnotizzati, dallo strumento informatico del web. Per questo, io definisco la mia generazione, allevata dal 68 e violentata da internet. Da notare che questo titolo ha un carattere duplex, e infatti potrei anche definirla generazione allevata da internet e violentata dal 68. Ognuno si riconosca nella sua versione preferita. Per quello che mi riguarda, fui matricola ad Architettura a Firenze nell'anno accademico 78-79, ovvero in quei medievi miei anni in cui Natalini Superstudio decidono di smettere di disegnare incubi. Sono parole tratte da dichiarazioni di Natalini stesso, facilmente rintracciabili nel web, per indicare gli straordinari fotomontaggi di Superstudio. L'ironia è sempre stata spavalda e sottile in Natalini, attraverso un modo sarcastico di osservare, commentare ed esporre la propria esperienza giovanile. E prendo volentieri esempio l'aver definito incubi i fotomontaggi di Superstudio, universalmente riconosciuti come capolavori. Infatti quel termine dall'io usato schiaccia quelle composizioni dentro una scena terrificante. ma a parte il fatto che moltissime immagini radicals hanno un carattere decisamente inquietante perché paiono ricomporre la realtà appositamente per mostrare le contraddizioni, si è parlato molto di utopia critica da parte dei gruppi fiorentini, io credo che Natalini abbia voluto, col termine incubi, edulcolare lo slancio rivoluzionario che dilagò ovunque alla fine degli anni sessanta, per evidenziare la distanza tra i presupposti insiti nella sua giovinezza e la ricerca di quelli speculari se non antitetici evidenti nelle sue ultime architetture. Questa sofisticata e paradossale presa di distanza è sempre stata usata da Natalini nella divulgazione dell'architettura, anche quando, ed anche ciò è rintracciabile nella web, dichiara che il termine architettura moderna è un ossimoro perché l'architettura necessita di una sedimentazione spesso lunga secoli, mentre il moderno intercetta il tempo proiettandolo in un futuro anteriore, inconsistente e indefinito. Per questo, secondo lui, accoppiando i due termini questi si annullano a vicenda. Si tratta evidentemente di un'equazione tra significati letterali diversi, che può anche essere condivisa, non è il caso di chi sta leggendo, ancorché si accetti in un lampo di bruciare e far perdere senso a testi su cui sono formati migliaia di architetti, di professionisti e migliaia di idee. Gli autori sono tutti personaggi che è davvero difficile associare alla coltivazione di ossimori. Bruno Zevi, Leonardo Menevolo, Nicola Spezner, John Fleming, Giovanni Klaus Koenig, ecc. Anche in una mia diretta e personale esperienza, Natalini mise in discussione, arrivò a dire si permise di mettere in discussione un personaggio che il calico della storia dell'arte ha reso assolutamente superlativo, Michelangelo Bonarroti, ovvero uno di quei mostri artistico-mitologici su cui specie a Firenze è pericolosissimo avvicinarsi con qualsiasi metodo di giudizio. Ebbe la fortuna di partecipare ad una splendida visita, commentata personalmente da Natalini, all'interno del Museo dell'Operale del Duomo, da lui concepito. Era il 2018 e fu l'ultima volta che lo vidi. Nelle sale del Museo dedicata alla cupola di Brunelleschi, egli si era soffermato su diversi progetti che nel 1506 ebbero a oggetto la cornice con loggio intravertino che avrebbe dovuto risolvere l'innesto tra il tamburo poligonale e gli otto archi voltati della cupola. Come è noto, fu scelta la proposta di Baglioni Bacio D'Agno, uno dei protagonisti della maniera architettonica fiorentina. Baglioni iniziò la realizzazione del loggiato lungo lo spicchio della cupola che fronteggia la cantonata tra le sottostanti via dell'Orioli via del Proconsolo. È assai probabile che la realizzazione, ancora oggi limitata a quell'unico spicchio, venne interrotta e pertanto bloccandosi non proseguì lungo l'intero perimetro perché non nacquero dubbi sul carico del nuovo loggiato, gravante su un punto così delicato della struttura. Baglioni peraltro, di cui era riconosciuto carattere schifo e permaloso, abbandonò l'opera che non fu mai proseguita. Ma il colpo di grazia all'interruzione di quei lavori, limitati ad un solo spicchio ed ancora oggi visibili, fu dato da Michelangelo che in occasione della festa del Grillo del 1516 definì quella porzione del loggiato appena realizzato una gabbia per grilli. Domandai personalmente a Natalini quale fosse il suo personale parere. Mi rispose senza irritare, sbirciandomi col suo noto strabismo. Corsivo tra virgolette nove. Se io fossi stato Michelangelo ci avrei pensato due volte prima di aprire bocca. Concludo con un fotomontaggio di Superstudio intitolato Super Superficie, di cui peraltro esistono varie versioni. Una la vedete indicata con la lettera A nell'immagine che accompagna questa lettura. si tratta di una delle tante figurazioni del villaggio planetario totalmente interconnesso. Considero Natalini un radicale non libero, bensì liberissimo, proprio perché cinquant'anni dopo Super Superficie si è dichiarato convinto che quel medesimo villaggio planetario, che intercettò e raffigurò come pochi altri, avvilisca oggi la natura umana, deturpandone qualsiasi stato nascente, qualsiasi scossa emotiva e non ultimo qualsiasi spinta erotica. Il suo corto circuito appare miratissimo. Quale tributo necessario a spingersi, con la timidezza e audacia necessaria, in un contributo all'architettura spoglia di manifestazioni formali e carica, viceversa, di manifestazioni etiche? Probabilmente, dopo mezzo secolo, si tratta di un nuovo salto dentro il vuoto dell'utopia, perché la prima essenza dell'architettura sta sempre nella sua manifestazione formale, ovvero nella sua essenza estetica, a sua volta contenitrice della sua essenza etica. Ma questo, ancora una volta, è uno splendido gioco di parole. Dedico questo racconto autobiografico di stampo erotico, che scrissi molti anni fa alla mia generazione e a sette architetti radicals, che ho incontrato all'interno e all'esterno nel contesto universitario e che ritengo personaggi fondamentali nella mia formazione. Li cito in freddissimo ordine alfabetico. Lapo Binazzi, Alberto Breschi, Remo Buti, Gilberto Corretti, Riccardo Foresi, Vittorio Maschietto e, infine, ovviamente, Adolfo Natalini. Super Superficie Fu un momento critico, ero appena un ragazzo, quando mi accorsi che la prospicienza dell'esterno femminile non era una priorativa che riguardava esclusivamente il corpo di mia madre, bensì quello di tutte le donne. Insomma, con un certo sconcertante travaglio, in un battuto d'ali misi in discussione la mia idea complessiva dell'emispero femminile. La prima reazione, animalesca e istintiva, cui dette luogo quella personalissima rivoluzione antropologica, fu un gioco al puntamento, dove ogni donna si prefigurava, ai miei occhi, con l'obiettivo di essere assaltata da vinghiata, ovviamente per i suoi pettorali. Naturalmente, la mia esemplare educazione borghese respingeva quell'istinto bestiale, ma, com'è ovvio, non poteva far molto per tenere a bada il mio come visionario. Mi vedevo assai spesso, aggrappato a disini femminili, come uno scalatore impegnato su una cima alpina, nonché avvinghiato ad un fantastico reggiseno dalle trame retate, che funzionava da materna imbracatura, attra proteggere la scalata. Con l'approssimarsi della maturità e reggiseno, che il mio inconscio adolescente collocava in quelle suggestive arrampicate, si è allontanato da quei tribali istinti tattili, per divenire un feticcio di pura contemplazione visiva. Allora osservare senza toccare i damaschi retati che sorreggono i seni, dove un tempo identificavo in mia madre, è divenuto ai miei occhi un incantesimo senza pari. Ritengo di aver raggiunto l'apice di questa parodia da complesso di Edipo quando, ormai studenti di architettura, prese accordi ad una ragazza più grande di me. Era inglese, si chiamava Aline. Bionda, egocentrica, straordinariamente dotata di seno. Aline non era una donna qualunque. Era una straordinaria intellettuale, dichiaratamente lesbica e per di più amica degli esponenti di Superstudio, vado a dire uno dei gruppi fondatori dell'architettura radicale fiorentina, la mia preferita. Io e Aline ci accordamo per degli incontri erotico-letterari, in cui io ero vincolato a fare esclusivamente salotto, mentre lei si prestava ai colloqui in abbigliamento estremamente provocante e succinto, dove il suo reggiseno, dalle coppe maestose e semi trasparenti, mi si presentava davanti grandioso, colmo, decoratissimo, a tutto tondo. La cosa assolutamente straordinaria di quegli incontri era l'apice che io raggiungevo quando, osservando insieme a lei gli straordinari fotomontaggi Superstudio, la sentivo leggere gli storyboard che accompagnavano quelle immagini, dedicati con quel tipico accento inglese, che rendeva tutto ancor più seducente e malizioso. Quei momenti mi si trasformarono in itinerari cosmici, orbite planetarie, straordinarie favole di architettura, che promettevano figure desideri succinti di tepore materno. Fra le tante letture di Aline ce n'è una che non potrò mai dimenticare. Si intitolava Super Superficie. Grazie. Grazie. Grazie.